Buongiorno, allora questa mattina ho un programma particolare, vado per tombe, vado, cosa brutta così, detta così, vado per cimiteri, no, a parte gli scherzi, vado realmente al cimitero del paese dei miei, perché debbo andare a reperire le date di nascita e di morte dei miei nonni e di alcuni miei zii, i cui dati mi sono mancanti e mi servono perché ho chiesto ad una esperta di redigere il mio geno sociogramma, che è praticamente la fotografia astrologica del mio albero di famiglia fino alla generazione dei miei nonni, per capire determinate dinamiche familiari, compiti, ripetizioni, cose che mi interessano tanto. È tutto legato a quel libro che sto leggendo, ho contattato chi l'ha scritto e a febbraio avremo un consulto, ma mi servono le date. Allora, la cosa è impegnativa perché i miei genitori sono morti e tante cose non me le possono più dire, i miei zii sono tutti morti, cioè io ho soltanto cugini adesso perché i fratelli e le sorelle di mio padre e anche quelli di mia madre non ci sono più, i miei genitori erano i più piccoli e sono stati proprio gli ultimi a morire dopo i loro fratelli. E tra l'altro è una famiglia complicata, sono delle famiglie complicate perché comunque sono dei nonni che hanno vissuto le guerre, dove all'epoca l'ufficio d'anagrafe spesso era approssimativo, vi dico soltanto che mio padre è nato il 24 dicembre attorno alla mezzanotte e la mamma, mia nonna, chiese se si poteva registrare mio padre come nato il primo gennaio dell'anno successivo per non perdere il millesimo, dicevano loro. Quindi erano cose che potevano anche essere fatte alla Carlona. Il padre di mio padre io non l'ho praticamente mai conosciuto, però trovai la sua tomba al cimitero del paese andando proprio a cercare, così a curiosare ed fu lì che scoprì che lui aveva un nome di battesimo diverso da quello con cui lo chiamavano tutti, quindi ci sono questi misteri familiari legati alla generazione precedente che sono stranissimi perché erano tempi diversi e niente, insomma, devo andare a reperire. Di mia nonna lo so perché è l'unica che ho conosciuto, però il padre di mio padre devo vedere le date, i genitori di mia madre, il papà è morto un mese prima che io nascessi, mamma era incinta. La mamma è morta quando mia madre aveva un anno e mezzo e stava nel lettone a dormire allattata al seno con lo scoppio di una bomba. Mio padre ha avuto un primo fratello che è morto a 14 anni con lo scoppio di una bomba e non se ne sa niente, non so neanche se c'è la tomba o meno. Quindi con l'occasione mi faccio un bel giro. Questa dell'albero genealogico a livello astrologico mi interessa veramente tanto. Allora, io sin da ragazzina facevo i temi natali, l'avevo imparato da sola con i libri, facendo i calcoli, con le effemeridi e tutto quanto. Pur nella mia pochissima competenza ho tirato fuori dei dati che andandoli poi a vedere come interpretazione su determinati libri mi sono impressionata. Sia per le particolarità del carattere magari di mio fratello, di mia madre, di mio padre, sia per alcune cose della vita, alcuni destini che si sono compiuti esattamente come il tema natale prevedeva. Quindi c'è una, come posso dire, c'è una sapienza che va diecimila anni luce oltre a quel poco che ho imparato io sui libri come autodidatta. E questa è una cosa che mi sta affascinando tanto. In questi giorni sto rileggendo il libro Astro Genealogia e facendo i temi natali dei miei genitori e della mia famiglia sono venute fuori cose pazzesche. Nel mio tema natale si vede benissimo come la figura materna sia una figura fragile che si allontana dal nucleo familiare e ti costringe ad adultizzarti in fretta. Come c'è una mancanza di sicurezza, una mancanza di base affettiva che io ho percepito. La mia Lilith in cancro lo dice proprio, c'è proprio l'arcatipo dell'orfano che non è semplicemente quello che viene lasciato dai genitori ma quello che sperimenta un abbandono anche quando i genitori sono insieme. Per cui c'è tutta una serie di aspetti che sto approfondendo e che mi stanno di nuovo infiammando perché l'astrologia io l'ho smollata quando poi a 24 anni sono entrata nella chiesa, c'è una demonizzazione dell'astrologia pazzesca. Io ricordo buttare tutti i libri, madonna me mangio le mani, ma le mie passioni le sto riprendendo tutte, non vi preoccupate ho recuperato tutto. Io so che molti dati a questa donna non potrò darli, lei mi ha chiesto le date di nascita e gli orari di me, dei miei genitori, mio fratello, i miei zii e i nonni. Con gli zii già è stato un problema, ho reperito qualche cugino, avevo dei santini di ricordo dei funerari di qualche zio, quindi ho visto la data di nascita, la data di morte, gli orari non li saprò mai nella vita perché neanche il mio è sicuro e bastano 5 minuti per cambiarti un ascendente e di conseguenza tutte le case astrologiche, di conseguenza i pianeti che sono ospitati nelle case e gli aspetti che formano i pianeti nelle case verrebbero completamente stravolti dando una lettura imprecisa. Per cui piuttosto che dare un orario sbagliato meglio non darlo, ma il mio di orario lo devo recuperare, serve l'estratto di nascita, ho provato online, c'è solo il certificato di nascita, l'estratto probabilmente devo andare a chiederlo in comune, quello mi serve preciso e quello lo voglio avere, però è faticosissimo proprio. Oggi è praticamente l'unico giorno di questa settimana difficoltosissima che non ho impegni, John è ritornato a scuola dopo l'influenza e sono libera, sono libera, il mio lavoro è tutto programmato, oggi non ho appuntamenti per cui mi concedo questa bella passeggiata fuori porta, tanto il paese lo vedo sempre con gioia, il cimitero è tanto che non vado, vado a rivisitare i miei nonni e vedo di reperire qualche dato, tra l'altro vorrei ricontattare quella cugina, ve ne ho parlato una volta un po' un casino, vabbè comunque il padre di mio padre dopo aver lasciato moglie e 5 figli ha avuto 5 figli ed un'altra donna, ai quali non ha dato il cognome perché a tempi il divorzio non c'era, per cui erano figli illegittimi che hanno preso il cognome della madre, io ho rintracciato questi 5 zii che hanno avuto a loro volta dei figli, quindi cugini, una cugina Katiuscia, l'ho rintracciata e suo padre è identico a mio padre e io sono identica a una zia che è morta, eravamo ripromesse di vederci e voleva farmi conoscere il suo papà, purtroppo poi è scoppiato il covid per cui tutto si è bloccato, ho perso un po' i contatti ma ho il suo numero di cellulare, lei abita lì nei paraggi del paese ovviamente è rimasta da quella parte del Lazio diciamo e quindi vorrei ricontattarla, spero che suo papà sia ancora vivo perché chiaramente aveva l'età come ce l'ava mio padre, anche se un po' più piccolo però vorrei rivedere nel viso di quest'uomo le fattezze di mio padre, è una cosa affascinante, sono 5 zii che io non ho mai conosciuto e che mio padre come fratelli fratellastri non ha mai visto e tanti cugini che portano un altro cognome sono sparpagliati tra la Sabina e Roma, quindi è veramente una storia familiare particolare la nostra, è chiaro che non mi vado a interessare anche di quel ramo lì per il discorso dell'albero genealogico però mio nonno che porta il mio cognome ed è il padre di mio padre quindi in linea maschile nell'albero ha un'importanza fondamentale come ce l'ha anche la madre di mia madre che è tragicamente morta. Allora qui da noi stamattina sono tipo 3 o 4 gradi a dir tanto, non oso immaginare a far a Sabina il freddo che possa fare, quindi mi doto di piumino questo bellissimo è un acquisto recente black friday da mango metà prezzo piuma d'oca bellissimo pagato una cavolata 35 euro anziché 70 ed è un dubbotto bellissimo proprio biancolatte caldo 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 quindi ora mi attrezzo prendo la mia macchina metto un po di benzina e parto da quando mi sono riconciliata dentro con mio padre con la mia storia con la fragilità dei miei genitori da quando ho perdonato veramente il desiderio di riconnettermi alla mia stirpe è ancora più forte ma non per un legame malato diciamo così ma proprio per un discorso di sapere in questa incarnazione in quale albero ho voluto incarnarmi è una cosa che di me dice tanto è una cosa che non voglio che mi faccia sentire impastoiata in modelli dai quali ho pieno diritto di staccarmi per essere la persona che sono la persona che voglio essere anche diversa anche nelle sue anarchie perché ne ho tante però mi fa veramente piacere nel senso sapere che in questa vita qui ho avuto una famiglia magari disfunzionale magari problematica ma ho avuto una famiglia e di questa famiglia qualcosa in me c'è qualche tratto anche del mio carattere io lo vedo insomma no è un pochino di mamma questa questa cosa è di papà poi c'è il gusto per la casa bella quella è di mamma e quest'altra cosa invece di mio padre questo carattere che non si lascia dire le cose più di tanto è bello ritrovarsi anche in quello che è stato perché questo non me lo sono goduto da piccola da piccoli lo si subisce da grandi lo si sceglie e in questo momento che ho la maturità per farlo anche a livello di età no non soltanto la maturità emotiva e ho ancora le forze per farlo perché non mi ci vedo a 70 anni ad andare in giro per cipiteri con le scale con le cose voglio voglio lasciare ai miei figli questa questo scheletro no questa immagine con dei nomi dei cognomi il ramo paterno delle mie figlie è molto più semplice molto più lineare sono persone che hanno avuto sempre presenza che sono anche ancora vive per molte insomma per molte generazioni anche avanti con età grandi eccetera la mia famiglia è stata sempre un po più frammentata sempre un po chiusa in determinati misteri che riguardavano anche i matrimoni le nascite determinate situazioni particolari che però voglio rifare mie cioè io sono parte di quell'albero lì e a modo mio lo voglio anche un po onorare no quindi parto parto non so a che ora torno vado a fare la mia ricerca e sarà un bagno di emozioni sperando anche di riuscire a trovare il tempo per conoscere da vicino questa lontana cugina e pur se abbiamo un cognome diverso in realtà il cognome lo stesso è il mio sangue quindi mi interessa veramente fare questa esperienza finalmente ho trovato il momento per farlo vi aggiorno vi aggiornerò un bacio sono arrivata adesso mi appropingo vi faccio vedere la location cipressi ovviamente e cipressi cipressi ovunque e questo è il bel cimitero per quanto un cimitero possa essere bello ma a me non ha mai dato tristezza anzi va bene ragazze inizio inizio la mia ricerca allora ho fatto tutto è pensate che mio nonno stava nell'ultima fila sotto alla fine del cimitero io me lo sono fatto tutto vi posso dire con esattezza quali sono i cognomi più gettonati a fara sabina oddio allora la brutta notizia è che sulla tomba della mamma di mia madre non c'è la data di nascita c'è solo quella di morte e questo sarà un enorme problema non so neppure a chi chiederla perché tanti miei cugini sicuro non la sanno non so se a questo punto sarà possibile per me fare una ricerca anagrafica considerando che sono sì la nipote ma che sono nipote con un cognome per parte di marito di mia madre quindi vedremo il resto ho trovato tutti mio nonno la sua compagna quella con cui ha fatto cinque figli e la famosa bianca che mi somigliava in realtà non mi somigliava poi tanto è detto proprio sinceramente non non vedo tutta questa somiglianza e tecnicamente io somiglio molto anche a mamma per cui sì ho qualcosa di papà però papà è figlio di questo nonno ma di mia nonna io anche a nonna un po di somiglio questo invece era il nonno con un'altra persona che fa una figlia quindi insomma non è proprio tanto la somiglianza però mi ha fatto piacere ritrovarli tutti e ho scritto le date che non sapevo adesso c'è da risolvere sta storia di mia nonna nella dalla di nascita mi si è sciolto tutto adesso mi vado a cercare un ristorante una trattoria un'osteria qualcosa che farà sabina ci dovrebbe essere qualcosina adesso vado su in paese e chiedo a qualcuno così mi mangio una cosetta e poi sento catiuscia in ogni caso poi me ne torno verso roma ragazzi un bacio buona giornata ma non è meraviglioso io qui da bambina ci venivo la domenica a trovare nonna i miei genitori con mio fratello e si mangiava si beveva questo affare in sabina o fara sabina chiamatela come volete mia nonna ha un periodo abitato lì in queste finestre alte allora sto cercando di raggiungere il forno del paese perché qui i ristoranti da lunedì al mercoledì sono chiusi a pranzo vediamo se c'è il forno vendono pane vendono delle crostate di visciole eccezionali sei aperto fino a luna sto bene se no niente ci sono i carabinieri se non ricordo il forno qui sulla piazza che bello non l'ho mai vista addobbata a festa farà no è chiuso è già chiuso e va bene allora vado a prima case eccomi qua ragazze sono appena ritornata a casa sono le 18 oggi sono stata via dalle 10 alle 18 è stato molto bello otto ore fuori mi sento ritemprato ho scattato un sacco di belle foto al paese che era pieno di simboli natalizi io non l'ho mai visto così addobbato anche perché all'epoca in cui lo frequentavo io con i miei genitori ero piccola e fara sabina non era un paese così noto in realtà negli ultimi anni tra il teatro potlac le varie manifestazioni estive che fanno sulla piazza e tante belle cose si è caratterizzato e quindi adesso attira anche molte molti turisti molto turismo sì decisamente io alla fine ho pranzato la mia cugina perché a fara non c'era ristoranti e girando girando alla fine ho chiamato mia cugina che era una delle vicinanze mi ha detto passa vieni insomma alla fine ho pranzato con loro ho mangiato benissimo ho bevuto un vino meraviglioso e sono passata anche da Ticotà tornando per ricomprare il mio saponone faccio vedere le cosine che ho acquistato da Ticotà ecco questi li devo lasciare in macchina ho dimenticati pazzolettini da lasciare in macchina e ho preso il mio solito flacone ve l'ho fatto vedere tra i preferiti del periodo e probabilmente ve lo farò vedere nei prodotti finiti anche il flacone quello vuoto che però voglio riutilizzare voglio mettere il bagno schiuma e metterlo sulla vasca metto un altro tipo di bagno schiuma che adesso vi faccio vedere comunque sapone del Mugello extra puro Marsiglia io questo lo uso come refill per il sapone mani e il sapone igiene intima che succede l'analitica gatti e niente quindi faccio il refill di quelle due cose poi come bagno schiuma mi sono presa questo sfumo di champagne a latte di mandorle burro di karité e credo che lo inserirò dentro questo qui vuoto e lo lascio sulla vasca mi piacciono molti i flaconi grandi così almeno non ci penso per un po' e poi ho comprato un mega shampoo professionale molto bello da vedere e molto buono credo perché si chiama il salone del legendary collection milano ed è proprio per parrucchieri e sono quanti sono un litro un litro di shampoo ragazzi mi durerà 6000 anni perché io lo diluisco sempre quando lo shampoo è buono ed è molto concentrato se fate due shampoo non potete farli in modo assoluto con lo shampoo assoluto si appesantiscono un casino i capelli io prendo un flaconcino vuoto e metto due dita di shampoo e il resto acqua allora diluvito così ci faccio due shampoo e non non si rovinano non si appesantiscono questo è specifico per capelli colorati e trattati a base di olio di mandorle ed estratto di walnut che è? walnut nocciolo che cavolo è? walnut oddio lo sapevo cos'era il walnut vediamo se c'è scritto qui estratto di noce sì e olio di mandorla l'odore è veramente buono ho annusato come sempre io pecco di queste cose devono usare 13 euro e 90 ma parliamo di un litro di shampoo professionale quindi mi sembra un prezzo buono voi due sempre a litigare e che altro basta questa è l'acqua da bere mia ok e basta tutto qua ragazzi io mi ero dimenticata tra l'altro ma in realtà ce l'avevo su il telefono quindi mi suonava il l'alert sicuramente ma le 18 e 45 ho una sessione l'ho messa a fine giornata perché è una persona che sta all'estero e quindi con gli orari ci collimiamo così e quindi niente adesso buoni buoni 40 minuti di tranquillità metto a posto queste cosine sistema un po la casa la preparo per la cena e poi mi metto a lavorare quell'oretta e poi arriva luciano quella miagola sei sempre disperata wow wow selia figli maschi il rotolo questo sconosciuto perché una sola domanda perché è perché non si sa allora lagone grande lagone piccolo questo è quello per le mani riempiamo e voilà io adoro questo sapone di marsiglia puro ecco qui non troppo perché quando mettere dentro il dosatore riesce fuori pronti questo era il primo flagone acquistato di questo sapone adesso diventa il dosatore che riempio continuamente e questo è quello che ho sul bidet identico e quindi si riempie anche questo stesso sistema ecco qua fatto anche lui ne ha avanzato quasi mezzo litro e quello sarà per i prossimi refill 4 euro e 30 per un litro di sapone puro di marsiglia sapone del mugello ottimo prezzo perché questi da soli al supermarket li pagate intorno ai 3 euro e stiamo parlando di 500 millilitri per cui e mezzo litro rispetto a un litro a 4 euro e 30 quindi direi che insomma va bene così adesso il bagno schiuma lo vorrei versare all'interno del flacone vuoto che ho lavato risciacquato e finito il primo litro di sapone di marsiglia ci voglio mettere questo bagno schiuma così tengo tutti i flaconi più o meno uguali cose mie questa è la mia luna in verdine che parla e quindi inserisco questo qua questo lo lascio invece sulla vasca così com'è perché penso che ci starà quasi un anno un litro di shampoo durerà una vita di bacio